Continua con successo la presentazione del libro dello chef Franco Marino su tutto il territorio regionale e nazionale. Ultima presentazione sabato 23 febbraio 2019 all'ora 18 presso la libreria Mondatori in via Fragnito 64, Rione Alto a Napoli. Ha moderato la presentazione Maurizio Schettino, speaker radiofonico. La libreria Mondatori, Rione Alto a Napoli qui per la presentazione del libro di ricette a firma di Franco Marino, cuore, mani e mente, cucina gourmet, vegana e di tradizione edito dalla Print Art Edizioni. Tra gli ospiti presenti e coloro che sono intervenuti appunto in questa presentazione a proposito di cucina, a proposito di chef, qui c'è Franco il tuo collega? C'è un mio collega amico che invito qui, Domenico, vieni Domenico. Ciao a tutti, grazie mille Franco, sono onorato di questa tua chiamata, dal pubblico, sono onorato di stare qui in questa sede Mondatori. E niente, io ti seguo molto, come hai già anticipato tu, ci siamo conosciuti a Milano e ti ho sempre seguito perché appunto mi rispecchia un po' il tuo lavoro, perché sono cresciuto come hai fatto tu, con molta umiltà, facendo sacrifici. Qualche anno fa è nato dagli utenti Facebook, mi hanno detto, mi scrivevano, chef, ma hai mai pensato di scrivere un libro, mai pensato di scrivere un libro? E si è accesa la lampadina. Sì. E quindi da lì ho iniziato a scrivere delle ricette, poi ho incontrato Massimo, che è il nostro, diciamo, l'editore, e da lì è nato, si è materializzato questo progetto, quindi ringrazio anche Print Art Edizioni, te e tutto quanto lo staff che mi ha seguito per la realizzazione di questo libro. Cuore, mani e mente, cucina gourmet vegana e di tradizione, Print Art Edizioni, ricordiamo che altri saranno gli appuntamenti che ti vedranno protagonista, siamo anche in una fase di programmazione per quelle che saranno le presentazioni in cui vedremo proprio, praticamente, l'analizzazione dei piatti con show cooking davvero imperdibili. Certo, uno lo faremo il 7 marzo da Casolaro a Nola, e un altro invece lo faremo il 16 marzo a Nocera, presso, diciamo, la struttura che ha messo a disposizione l'editore stesso, quindi c'è la possibilità di presentare il libro e di degustare, magari facendo uno show cooking, magari qualche cosina, anche se non qualcosa, diciamo, di semplice, per far vedere alcuni passaggi di come si possono realizzare dei piatti anche a casa. Ok, grazie mille, grazie Franco e vi aspettiamo!